buongiorno ragazzi buongiorno a tutti eccoci qui con robin hood share world builder questo gioco questo rpg chiamiamolo rpg chiamiamolo gioco d'azione chiamiamolo avventura c'è un po di tutto anche se in realtà è nato come rpg giochiamo subito la lingua vediamo come si fa a scegliere ah bisogna morci con il mouse in questa maniera si perché il gioco perfetto italiano vediamo se troviamo italiano il gioco è nato esclusivamente per pc qualche mese fa e soltanto da pochi giorni il 28 di giugno è stato portato su console sia su xbox dove siamo in questo momento noi con la serie x sia su playstation 5 quindi nuovo una novità e oggi vogliamo vederlo un po insieme vogliamo provarlo un attimino insieme ovviamente sulla mia faccia copre qualcosa robin hood share world builder il titolo lassù in alto lo vedete adesso lo ricopriamo ci siamo noi con l'altro bel faccione gioca importazioni riconoscimenti e qui ci muove tutto con questo affare qua porcazza misera è un gioco da pc praticamente proprio fatto da pc vediamo di vedere le importazioni facciamo qualcosa di interessante le valutate lasciamo facile perché non vorrei mai che non riusciamo a capirci un bel tubo quindi iniziamo da facile ragazzi oggi una novità oggi andiamo così io ringrazio tutti quanti voi per il vostro consenso per i vostri sempre like commenti che fate ai miei video per come mi seguite per le iscrizioni per le condivisioni grazie a tutti quanti ragazzi questo è un primo episodio forse unico per questo gameplay questo gioco perché vedremo di come si tratta ho visto un po in giro letto qualcosa anche visto da pc che è molto molto complesso molto complicato è la grafica ragazzi ovviamente luminosità gamma audio direi che siamo a posto così effetti musica c'è tutto i controlli ragazzi sono questi qua allora diamo che c'è la roccia veloce 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 il personaggio lo muoviamo col mouse non c'è il mouse perché abbiamo i tasti quindi lettera a lettera b azione ovviamente azione alternativa dall'altra parte a salta questo sia b si accovaccia e x interagirsi va bene e corri premo questo mappa la freccia in giù inventario sono queste cose qua e c'è un bel po di robine ragazzi torniamo indietro vediamo se riusciamo senza andare a qualcosa va ma direttamente facendo così è perfetto andiamo su gioca ragazzi proviamo questo gioco mi raccomando non ho visto i sottotitoli perché il gioco è in italiano scritto però parlato credo sia in inglese quindi diamo un attimino a vedere lingua italiano busto marcatori tutorial mostri tasti sottotitoli ok degli intermezzi blocco durante diamo una catena qua non vorrei che mancasse qualcosa no non c'è la grandezza perché ho visto che sono molto piccoli sono titoli quindi ragazzi non vorrei che il livellamento della mira qui abbiamo tutte le varie possibilità ma non quelle che interessano a noi modalità corsa cambia blocco durante l'attacco preciso solo che un sacco di roba ragazzi il gioco poi vedete la mappa vedrete le abilità perché poi è un rpg quindi rpg ma anche avventura è costruzione ragazzi c'è crafting c'è da fare un sacco di cose è bestiale credo che a molti piacerà questo gioco non so se lucide a portarlo perché portarlo è difficile portarlo difficile vediamoci riusciamo ad andare avanti col gioco torniamo indietro basta fare così esatto torniamo io di questa maniera senza bisogno di fare niente andiamo su gioca e proviamo ragazzi vediamo un po cosa capita continua partita non l'abbiamo mai giocato quindi ovviamente nuova partita caricamento è una cosa normalissima e meno male che l'italiano il riprodotto triangolo presso al tale noi ci vediamo la cena vediamo cerchiamo di capire un po che succede vediamoci questo video robin di loxley è proprio vissuto alle sabbie ardenti di terra lontane mentre avvolgeva il suo ruolo nelle spietate e crociate ok abbiamo fatto le crociate è un sito indenne da sua maglia mortale solo per diventare un'edule e portare i nemici più potenti nel suo paese d'origine ragazzi le città anche a voi perché ok dice che le foreste di cervoda hanno dato ripuso a un seguito di persone ricardo fuori del leone è morto prematuramente e l'inghilterra è caduta nel caos più assoluto illegalità assassini c'è di tutto ragazzi stufli c'è di tutto e c'è di tutto in questo ok ci siamo missione un porto sicuro iniziata ora avanti salta non salta un kaiser si si accovaccia si rialza e risalta vale azioni abbiamo a destra una cosa verde una cosa gialla tutte varie cose qua torcia perfetto la spegniamo che non serve ralentare il tempo visione del cacciatore grande x per prendere tutto ok ragazzi un porto sicuro parla con tacche dobbiamo cercare in frate tacche ma da che parte ehm ehm ah ok c'è un punto esclamativo quindi probabilmente dobbiamo seguire tale per di qua eh vedere un po' quel simbolo arancione probabilmente è la missione seleziona uno stile di combattimento preciso nessun movimento durante l'attacco seleziona una modalità di combattimento più realistica e impegnativa consente di eseguire attacchi combinati più precisi e di colpire beh questa è la cosa più difficile vediamo l'altra dinamico movimento libero durante l'attacco uno stile alternativo in cui si può muovere mentre si usano i pugni di base consentendo di schivare più facilmente gli attacchi richiede un maggiore controllo sulla portata delle armi e rende più difficile l'esecuzione di sequenze di attacco per i giocatori che preferiscono un combattimento incentrato sui colpi di base io direi di di passare come si fa? ok di fare questo guarda che è più semplice l'altro è più piattivo magari quando saremo abili nei combattimenti conosciremo tutte le varie mosse lo potremo fare selezioniamo questo seleziono un livello di difficoltà bene ragazzi io direi sul pari il livello di difficoltà si riferisce al regolo della sfida che deve affrontare influisce principalmente sulla porta degli avversari vabbè io lascerei tranquillamente facile cosa abbiamo? vediamo la città cosa c'è eventualmente per sapere facile ma ragazzi lasciamo lasciamo bisogna rimettere ancora rimettiamo facile e procediamo così modalità corsa la modalità di corsa si riferisce al modo in cui si attiva la corsa di un personaggio si può essere attivata tenendo premuto il pulsante o con un solo clic ok qua c'è un ponte vediamo di non finire dentro l'acqua madonna ragazzi di non finire dentro l'acqua dove c'è l'acqua? attacca sembra io vedo il punto esclamativo là in fondo quindi seguiamo oh cos'è questa? introduzione premi per leggere i tutorial R l'obiettivo principale del gioco è liberare quattro regioni dell'Inghilterra centrale dal dominio dello sceriffo di Nottingham e dei suoi scagnosti eliminando i nemici e aiutando gli indifesi attraverso missioni ed eventi aumenterai la tua reputazione nelle varie regioni aprire tutorial e non mostrare tutorial va bene aprire tutorial io direi di ah bene ho degli altri abbiamo eh per andare avanti forse di qua così raggiungendo il 40% di reputazione in una regione si sblocca la possibilità di iniziare la missione principale della storia il cui obiettivo è liberare la regione stessa mentre viaggi attraverso regioni ti imbatterai in numerosi eventi e compiti che ti porteranno a completare l'obiettivo principale dell'avventura alcuni degli eventi che dovrai affrontare sono eh ora con la mappa si va alla precedenza ok per ricordare la mappa ragazzi la precedenza poi vediamo che la mappa com'è la situazione allora gli eventi salvando gli abitanti dei villaggi dell'esecuzione scortandoli e salvandoli dai rapitori e questo è uno attaccare con vogli magazzini e l'esattore delle tasse e queste due difendere la gente dai cavalieri corrotti soldati spietati predoni dei boschi e molte altre minacce facciamo un sacco di cose ragazzi lo sviluppo del tuo personaggio dipenderà dall'uso efficace e dei punti abilità e dall'espansione del tuo insediamento che ti permetterà di creare gli oggetti necessari acquisire abilità speciali o produrre le materie prime necessarie ragazzi un sacco di lovaccia qua ma miserius quindi apri tutorial l'abbiamo già aperto faccio così si chiude ah lo facciamo tutto grande nessuna missione attiva ah ok missione completa del tutorial di qua qua ragazzi è bestiale qua va bene allora la mappa la facciamo con la palce in giù urca accampamento dei figli di Adamo e noi allora ah ok noi siamo questo questo è ah questo è frataccio io faccio così e mi fa qualcosa mostra le chiavi prendendo premuto trascine navigazione seleziona qua donna punto di interesse ragazzi frataccio di la noi siamo cos'è questo qua ah questo è lo stagliere ma noi siamo questi va bene andiamo avanti ma qui si può raccogliere questa roba ah raccogli con la x va bene non so cosa ho raccolto ragazzi alimentazione e alimentazione premi per leggere tutorial ancora ricordati di controllare regolarmente gli indicatori di fame sette ah sono fame sette quei due lì ottimo e i due rossi eh se ne trascuri una le conseguenze possono essere fatali ah ragazzi non anche cercare di non morire qua eh padonna è complicato è complicato esplorando il mondo o acquistando cibi dai mercanti ti imbatterai in alimenti semplici puoi costruire una cucina nel tuo villaggio dove cucinare le migliori prelibatesse grande per fortuna le cose sono un po' più facili con l'acqua non devi fare altro che trovare un posto se vogliono le bottiglie di acqua avete una bottiglia di acqua scusi ora un po' d'acqua fresca me lo può dare non me la da allora però sta già salendo la il mangiare il cibo andiamo da andiamo subito da frattac magari ci da qualche oh qui c'è un sacco di ah una bottiglia vediamo questa è una caraffa non è una bottiglia non la posso prendere quello cos'è? raccogli? il sale? e se prendo un maiale e me lo mangio? eh no non sarebbe una brutta idea ma non va bene cerchiamo frattac ah eccolo qua buongiorno caro come va? parla con frattac ti preoccupo sempre quando sei lontano da casa per molto tempo Robin e mio buon fratello lo serifo troverai la morte molto bene cos'è sta roba? che lo devo fare? io basta che faccio x? ehm quindi? ah ok mio buon fratello lo serifo troverà la morte molto prima di me al tesoro come sempre sono felice di vederti in buona salute amico e io rispondo non preoccuparti questa volta non siamo in pericolo qui siamo sicuro adesso ragazzi sono un pochino più grandi sull'uditore fate fatica ci dovete vederli però poi sotto cos'è navigazione? immagine ragazzi c'è qualcosa c'è qualche baghettino eh la sotto c'è scritta immagine id non ci vorrebbe un'immagine la sotto forse una minimappa che non vediamo già qualche bug ci può essere la minimappa a destra in base non so se la vedete forse riesco a si muovo tipo il mouse ecco qua sotto vedete immagine id non navigazione probabilmente qua c'è la minimappa che non vediamo grande grandissimo il gioco continuiamo non posso fare nulla dopo il terrore che gli uomini della corona hanno seminato su di noi e sul nostro vecchio villaggio questa volta non ci troveranno siamo ben ascolti me ne occupo ve ne sono occupato io decidiamento presidente era così bello ti conosco fin troppo bene vecchia volpe stai tramando per contrattaccare ciò che conta ciò che conta è che tutti noi ne siamo scettibili dopo aver sconfitto Blackcurry è liberato Marian o c'è anche Marian lo serifo ha perso completamente il suo contegno devo fermare il nemico prima che diventi troppo potente i nemici il re e lo serifo non si limitano ai loro scagnosti si sente costantemente parlando di sempre difurvanti che affliggono i vintorni di Nottingham gli aiuti del re crescono di numero alcuni vengono comprati con l'assegnazione di terreni altri minacciati di morte e confische dobbiamo indebolire la presa del re e dello serifo se vogliamo sentirci al sicuro qui parlano sempre questi? assolutamente Robin recentemente Little John si è visto sbagliare la blusa porca miseria non possiamo correre rischi simili ci riprenderà lo conosci ognuno di noi ha le sue croci da portare non lo dici tu stesso ben detto forse hai ragione quel disegnamento sembra sicuro questa volta nessuno ci troverà è l'ora di scagliare una freccia dritta nel cuore della bestia la bestia sarebbe lo serifo di Nottingham il re cattivo va bene ti credo caro Robin ma prima di farlo devi recuperare le forze costruire un nuovo villaggio è un lavoro estenuante ma mangiare bene ma ah mangia qualcosa bevi qualcosa di posa creatura le ripariamo più tardi eh casa mia grande allora la bottiglia grande inventario vediamo allora per la prima si fa così dovrei vedere molto meglio e molto più grande perfetto allora 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 l'obiettivo principale del gioco è liberare quattro regioni ma è più di prima questo ho perso il tutorial come si fa? torcia visione ralentare il tempo cassa mi sono perso un pezzo del tutorial allora intanto io ho da bere e mangiare devo cercare devo cercare qua c'è un posto vediamo se riesco col posto a prendere l'acqua eh allora ehm X ah perfetto ha aperto l'inventario oh ho delle bottiglie allora vediamo un po' che ne vede l'inventario ragazzi madonna ma qui è bello bottiglie allora eh spada ordinaria e bottiglia vuota bottiglie e porzione di achilea questa invece è bottiglia d'acqua di seta crea quindi io la potrei anche mettere probabilmente oggetti speciali sposta equipaggio oggetto ok faccio X e lo metto la perfetto e poi potrei mettere anche eh cos'è qua cappuccio universale beh ce l'ho credo cosa ho in testa eh cosa abbiamo sciarpa universale ah posso mettere il cappuccio la sciarpa pietra come funziona ah è meglio mettere la sciarpa eh questo cos'è cinghiale 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 e sale vanno bene insieme ma per mangiare il premuto tracina scoglie l'elenco quindi se io volessi mangiare qualcosa vedete cosa c'è madonna ma quanta roba c'è ragazzi equipaggiamento questo cos'è diario diario ah ok le regioni un porto sicuro tac a volte si lasse a trasportare va bene missione completa tutorial questo cosa c'è cos'è questo abilità passive usa i punti abilità ma madonna ragazzi spadaccino spada leggera ora noi abbiamo questi no? se non sbaglio no? le verdi puntabilità disponibili 0 grandissimo livello 1 costo 1 ho preso ah quelle verdi si possono prendere ma io quante ne ho di ah ce ne ho 5 ancora ah ok ragazzi possiamo prendere qualche abilità allora abbiamo preso quella questo cos'è? eh salute max aumentiamo la salute un pochetto perfetto eh qui cosa abbiamo? danni ad arco aumenta i danni infritti con l'arco vediamo se poi possiamo aumentarlo eh eh aumenta il peso massimo eh si ragazzi qua bisogna fare così perchè abbiamo più peso possiamo portare più roba è importante in questi giochi eh quando devi cominciare a portare roba trovare oggetti raccoglierli fare brigare il peso è importantissimo spada del C daria da spada eh questo cos'è? colpo di fortuna abbiamo ancora eh qualche punticino da prendere tre io ne metterei allora vediamo un po' salute massimo di qua ancora più dieci resistenza allo stato io ne metterò allora sicuramente eh tasche profonde eh questo durabilità strumento io metterei tasse profonde tasche profonde facciamo così poi andrei a fare qua ancora una salute massima ah me ne ha presi due di quelli non posso più fare niente costo uno costo uno abbiamo finito va bene ragazzi direi che porca miseria quante abilità eh ma ci può andare su eh sentire dell'abilità anche di qua madonna raga c'è ma qui c'è c'è da un gioco di ruolo questo ragazzi che c'è da fare un sacco di cose andiamo a vedere un attimino qua cosa troviamo qui cosa c'è mappe mappe annullato le modifiche applicate eh ah no no cazzo devo applicare tutto quello che ho fatto yes ah ok energia massima 110 perfetto rigenerazione energia fame 22 7 19 va bene siamo ancora abbastanza tranquilli applichiamo tutto e ci teniamo eh questa abilità ok adesso ragazzi passiamo di qua e vediamoci io spero che voi capiate un po' tutto perchè è complessa la cosa mi sa che sia un gran giocone questo eh come dicevo prima all'inizio della di questa avventura di questa questo video non so se lo porteremo come gameplay sul canale perchè vedo che è parecchio tosto e magari tanti di voi non ne frega niente di seguirlo magari preferiscono giocarlo eh però intanto qua cosa abbiamo qui abbiamo le mappe alla mappa ok accampamento di equi invece abbiamo abilità attive ah pure queste madonna attive combo cosa abbiamo qua nessun punto capodestramento combo combo dei colpi madonna c'è un sacco di chiuse chiuse qui c'è una lettera i forse è una potente abilità che consente di combinare ah qui sono le combo base combo a tre colpi attacco da fermo e bisogna impararle queste cose credo eh eh non so come si impareranno probabilmente dando avanti nel gioco c'è la possibilità di credo eh seleziona ah seleziona con la se io seleziono combo a tre colpi attacco da fermo ma c'è qualcosa seleziona con la non non mi fa niente probabilmente si può cambiare attacchi speciali no forse adesso ragazzi non posso fare ancora niente siamo soltanto all'inizio va bene noi dovevamo provare sicuramente la bottiglia dell'acqua l'ho messa qua la bottiglia della pozione una sostanza da sapore amaro e di uno strano colore permette di rigenerare un po' di salute perduta se lo volessi portare sposta tenere premuto tracina ok questa è vuota la bottiglia è vuota però a questo punto la portiamo qua non me la fa portare? no è vuota pietra sale va bene usciti speciali d'accordo io adesso vorrei riempire la bottiglia vuota come si fa? allora la bottiglia vuota può essere riempita con l'acqua fresca in qualsiasi posto nelle vicinanze va bene io vorrei riempirla quindi? mi dice che è vuota ah no ma c'è in mano questa? devo bere allora come si fa? tieni premuto prendi tutto torcia bisogna rallentare il tempo se io voglio bere ragazzi vediamo di capirci un attimino questa cosa eh allora prima di morire cerchiamo di riuscire a... vediamo un attimino come fare bevi l'acqua mangi il cibo tieni premuto l'inventario come facciamo per andare all'inventario? ehm no non è questo l'inventario ok mettiamo eh questo ragazzi lo mettiamo là perché devo bere e mangiare quindi facciamo così e adesso ehm da qualche parte ci deve essere per poter mangiare o bere se io torno fuori adesso non mi ricordo come si fa no non è questo ehm non è questo ci deve essere pure un qualche modo per poter allora come faccio per mangiare? ehm y premiamo un attimo tutto ragazzi allora visionario dove è rallentare il tempo torcia tieni premuto tutto prendi tutto allora se io voglio mangiare come faccio? eh torniamo qua un attimino ehm carica impostazioni carica menu riprendi impostazioni voglio vedere un attimino come si fa mangiare perché ah no forse ci riesco a aprire ehm il menù vediamo allora andiamo qua e cerchiamo di capire come si mangia allora qui c'è l'inventario io volevo mangiare spostamento scorrere l'elenco c'è un sistema per vedere quello che posso cosa posso mangiare e quando allora io vado su qualsù cinghiale fame immediata quantità 1 di 20 peso io vorrei mangiarlo questo eh devo capire come fare ragazzi ehm forse qua c'è qualcosa diario abilità mappa allora tutorial andiamo nel tutorial per cercare di capire come si mangia perché non ho capito come si mangia allora alimentazione andiamo qua ricordati di controllare regularmente gli indicatori di fame e di sete va bene di conseguenza essere fatali come mangiamo esplorando il mondo ehm acquistando un cibo se puoi costruire va bene si ma come faccio aprire per mangiare ragazzi che devo cosa devo fare per mangiare per aprire fatemi un po' capire adesso io leggo poi ci vediamo per pochi secondi scusate il tempo di leggere tutto qua ok ragazzi mancava questa parte l'ho trovata non l'avevo prima avete visto che involontariamente ho saltato un tutorial questo è l'aspetto del tuo inventario quindi bisogna andare da qua e qui ci dice come fare vediamo subito tieni premuto lb quindi è questo qui dietro per accedere durante il gioco puoi utilizzare gli elementi del pannello di rapido premendo i tasti numerici non ce l'abbiamo va bene poi lo zaino ha una capacità di carico limitata man mano che progredisci nell'albero delle abilità del personaggio potrai aumentare la quantità di spazio va bene e occasionalmente nel tuo inventario appariranno oggetti speciali che non possono essere scartati di solito sono associati a compiti da portare a termine questi oggetti non pesano e non occupano spazio va bene nel mondo incontrerai diverse sette tettature ognuno di essi è composto da sette elementi armature guanti pantaloni stivali migliorano le abilità di robin necessarie in battaglia capi come il cappuccio la siarpa e la cappa sono oggetti che influiscono solo sull'aspetto va bene quindi il cappuccio non serve un cazzo praticamente senza armi le foreste di Sherbu sarebbero insopportabili e non potrebbero sopravviverci neanche un fuorileggio esperto gli armamenti speciali si possono produrre utilizzando la tessitoria che può essere costruita nel villaggio di robin e le armature puoi scambiarle con altre armature o vendute a un mercante e bene ricordare tuttavia che costruirle e assemblarle non è una cosa semplice gli oggetti che non vuoi più nel tuo inventario possono essere gettati a terra ricorda però che molto probabilmente dopo un po' di tempo spariranno immediatamente se non vuoi perdere nulla metti in un luogo sicuro preferite nella tua cassa ok ragazzi a questo punto facciamo così e vediamo se ci appare oh possiamo sicuramente se gli cinghialo lo spiedo come si fa per mangiarlo se gli va bene e io voglio prendere anche l'acqua eh quindi come devo fare ragazzi fatemi mangiare o bere qua eh dovrebbe essere X per mangiare ma non mi fa nemmeno mangiare qua eh raga allora io faccio così e voglio rallentare il tempo se gli mangia cibo eh va bene forse devo andare a casa per mangiare il cibo dov'è la mia casa fuoci? ragazzi non riesco a capire come si mangia come si beve ah vediamo se ce l'ho in mano se io adesso bevo ah l'arte del commercio premio per legge non voglio tutorial del commercio adesso porca miseria i mercanti si trovano nel villaggio e nelle città di tutto il territorio saranno lieti di comprare e vendere molti oggetti in cambio di oro io vorrevo mangiare e bere ragazzi ogni mercante ha una specializzazione che ti permetterà di valutare le merci che possono essere acquistate fortunatamente saranno felici di acquistare tutto ciò che hai da offrire se vuoi guadagnare di più dal commercio ricorda di sviluppare le parti dell'albero delle abilità che riguarda proprio questo aspetto per acquistare un oggetto che ti interessa selezionare selezionare l'elenco selezionare l'elenco segli la quantità e premi su acquista e fino a qua ci siamo ragazzi per vendere un oggetto del tuo inventario selezionare e premi su vendi ragazzi io questo devo bere allora probabilmente abbiamo detto che devo fare così e così io ho preso l'acqua segli cinghialo allo spiedo come faccio? segli ragazzi io sono sul cinghialo allo spiedo che devo premere a questo punto forse dall'inventario devo fare qualcos'altro dall'inventario vediamo un attimino allora dove lo mettiamo? inventario oggetti speciali io ce l'ho qua quindi potrei anche già volendo mangiarlo o berlo però non so come funziona fama immediato saluto immediata peso 3 qualità 1 di 20 in questo quanto ne ho 1 1 di 10 però io volevo bere ragazzi fatemi bere sposta l'oggetto questo alla fine mi sa che io muoio ragazzi sapete che facciamo? l'episodio non trovate più per le lunghe io adesso no, volevo però bere e mangiare in qualche maniera eh questa è la mia casa? ok forse questa è la mia casa tieni premuto e prendi tutto rallentare il tempo torcia bisogno del cacciatore non mi fa mica bere però eh 3 se io voglio cambiare e prendere facciamo così proviamo a cambiare e mettiamoci allora questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua vediamo se cambiandolo non lo so cosa succede oggetti ottenuti oh miseria e ce l'abbiamo fatta quindi adesso vado qua e seleziono questa non so come cavolo abbiamo fatto ragazzi ma abbiamo bevuto e adesso direi di riposare apri il magazzino? è nostro? è vuoto? inventario cosa abbiamo? oggetto, unguento, bottiglie vuote ah questo è il magazzino? no questo è lo che abbiamo noi abbiamo due bottiglie che sono vuote qui bisogna andare a riempire le bottiglie poi le riempiremo adesso ragazzi facciamo una dormita e domani è un altro giorno e si vedrà dov'è il letto per dormire qua? ah forse è la nostra casa? e questa? ok vai a dormire cosa è tua? ragazzi per dormire allora ben riposato vediamo l'occhiattina dormire è importante non solo ti permette di salvare i progressi ma anche di rigenerare la tua salute cerchi i luoghi contrassegnati da gufie e lanterne è lì che potrai riposare attenzione però dopo aver dormito tutta la notte la fama e la sette si faranno sentire merda e allora il gioco affetto un salvatato automatico ogni volta che viaggi rapidamente verso un segnale o uno stagliere o se cammini vicino questo non accade durante i combattimenti eventi o situazioni legate a determinate missioni va bene ragazzi per dormire come si fa qua adesso? letto punto di controllo ah letto si salva quindi a questo punto punto di controllo come facciamo salvare? andiamo salva la partita va bene salviamo la partita ma come salviamo la partita? ragazzi qua è un bel dilemma io adesso ragazzi io vi saluto e vi ringrazio per essere rimasti qua con me a venire questo inizio di questa avventura stiamo parlando di Robin Hood Sherwood Builder la costruzione del villaggio ovviamente però non è solo quello è un rpg dobbiamo fare di tutto combattere uccidere nemici salvare Marian salvare i nostri amici nel villaggio tante cose da fare ragazzi e io a questo punto non posso fare altro che salutarvi vi ringrazio per la visione se vi piace la serie lasciate un commento lasciate un click lasciate un like per lasciare un like sapete che la cosa è non è affatto difficile basta cliccare un simbolino del tipo di questo fatto così e tutto 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 qua tutto qua Tufo Mix vi saluta vi da appuntamento un altro episodio se lo vorrete ma non lo so ci pensiamo su un attimino intanto vedo i vostri consensi intanto vi ricordo tutti i giorni è football 2024 lo portiamo sempre che non mancherà mai Tufo Mix vi saluta ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao 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 ciao